Il Comune di Albadriatic ha confermato l'affidamento del servizio di vigilanza armata nel periodo estivo della Bambinopoli Comunale, implementandolo anche con l'area della Pineta Litoranea. L'amministrazione Piccioni, in una nota, ribadisce dunque la bontà del servizio di vigilanza, avendo lo stesso governo al Benze, tra gli obiettivi e le priorità del proprio mandato, la sicurezza dei cittadini, la tranquillità sociale e l'ordine pubblico, del contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e di microcriminalità, di illegalità, di degrado e di disordine urbano. Pertanto, si legge nella nota, affiancandosi all'operato della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine, verrà riattivato il presidio di sorveglianza del patrimonio comunale per mezzo di un istituto di vigilanza privato delle cittate aree, potenzialmente mira di vagabonti e malintenzionati, soprattutto nel periodo di massima presenza di turisti nella città. Il servizio sarà attivo dal 1 luglio al 31 agosto, dall'1 alle ore 7, con la presenza di una guardia armata controllante i siti con postazione fissa, per evitare il verificarsi di bivacchi e condotte illecite di ogni genere, mentre da settembre volontà dell'amministrazione comunale di riaffidare nelle ore di urne il controllo specifico a guardie giurate dei citati siti, oltre che di piazza 4 novembre di Villa Flaiani, visto che il progetto sviluppato in via sperimentale nel novembre scorso ha portato ottimi risultati in termini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di micro e macro criminalità.